Buongiorno a tutti, sono Aldo Masolo e vi propongo questo mio nuovo video in cui rispondo alle domande che mi avete fatto voi. Infatti qualche giorno fa ho scritto sui vari social, ho presentato una storia in cui appunto chiedevo di farmi delle domande a cui avrei risposto. Quindi adesso inizierò a rispondere al più alto numero di domande possibile, quindi cercherò di rispondere a tante domande. Quindi rimarrò, magari mi soffermerò meno sulle varie domande per rispondere a più persone possibili. In più vi chiedo, se volete, di lasciarmi sotto al video in questione delle altre domande di vostro interesse a cui risponderò con un altro Q&A fra qualche mese o fra qualche settimana. Adesso vediamo in base anche i nostri impegni, perché comunque stiamo pianificando dei bellissimi contenuti, quindi iniziamo a lavorare ancora in modo più assiduo per cercare di darvi sempre più qualità. Quindi i Q&A a me interessano molto e quindi saranno sempre presenti nella nostra programmazione, però cercheremo sempre, anche con altri argomenti di interesse più vario, di darvi appunto dei contenuti più validi dal punto di vista appunto di qualità. Partiamo con il Q&A. Allora, io parto dalle domande, io le leggo conseguenziali, ce ne sono alcune che le salto perché a mio avviso non meritano risposta, diciamolo chiaramente, e altre invece molto intelligenti in cui mi soffermerò magari di più che altre. Allora, ciao Aldo, io sto a dieta, qui abbiamo un po' un problema, mi posso, praticamente per quello che ho capito da questa domanda che mi pone Emanuele, lui mi chiede se può mangiare la carbonara o i sughi. Io penso che stia scherzando e che quindi io risponderò anche io scherzosamente rispondendoli di no. No, se lui ha dieta, la carbonara che gli fa la sua mamma non se la mangia, se non nel giorno in cui ha la possibilità di sgarrare. Quindi la dieta è dieta, si mangia in bianco e senza condimenti, se no non sarebbe dieta e sarebbe un mangiare normale. In generale consigli alte ripetizioni a basso carico o poche ripetizioni ad alto carico? Io ne consiglio entrambe, nel senso che non c'è un allenamento migliore di un altro. Ti renderai conto con il tempo e allenantoti che ci sono dei periodi in cui preferirai una tipologia di allenamento e altri periodi in cui preferirai un'altra tipologia di allenamento. Ma anche all'interno dello stesso anno ci saranno dei momenti in cui sei in definizione e preferisci poche ripetizioni, la volta successiva invece magari preferirai le altre ripetizioni. Quindi io non ti posso dare una risposta univoca, ti posso solo dire che sono valide entrambe, quindi sono allenamenti da provare, da utilizzare e se darai sempre il 110% e mangerai bene e dormirai giusto, che sono poi i miei tre requisiti fondamentali per poter ottenere il massimo da questo sport, sicuramente appunto otterrai dei risultati. Quanta frutta bisogna assumere al giorno e quanta è troppa? Allora, la frutta va conteggiata come carboidrati, perché sono appunto zuccheri, quindi vanno conteggiati assieme agli altri. Infatti noterai che quasi tutti i nutrizionisti di frutta ne mettono poca, perché comunque sia, visto che molte volte uno va dal nutrizionista per dimagrire, il 95% delle volte, ovviamente preferisce il nutrizionista darti delle fonti di carboidrati un pochettino più sostanziose rispetto alla frutta. Quindi, se tu mangi la frutta, vuol dire che dovrai non mangiare delle altre tipologie di carboidrati, perché comunque sia, avrai un quantitativo di carboidrati, un limite di carboidrati, oltre il quale non puoi andare. Quindi io ti consiglio di mangiarne poca, il giusto, in base anche a quelle che sono le tue condizioni fisiche, perché se tu devi calare 20 kg, la frutta non la potrai mangiare. Se tu sei già una persona in forma, allora sì, potrai mangiarti i tuoi frutti, un frutto allo spuntino, di metà mattina e un frutto a metà pomeriggio. Però ovviamente non posso dirti mangiati un chilo di frutta, perché non è possibile, perché se ti mangi un chilo di frutta vuol dire che non devi mangiare altre fonti di carboidrati che penso non sia fattibile per una dieta equilibrata, ok? Penso di aver risposto in modo abbastanza esauriente a questa domanda. Quanti chili di pollo mangio all'anno? Allora, qualche anno fa ne mangiavo molti, molti, molti di più. Nel senso che il pollo lo mangiavo praticamente a pranzo e a cena sempre. Adesso con l'evoluzione anche, diciamo, delle preparazioni e anche un mio cambio di mentalità, ne mangio molto meno, anche se però ovviamente quando mi trovo in quelle fasi che tutti noi chiamiamo di pre-gara, quindi le 10, 8, 10, 12 settimane, in base alla condizione in cui uno si trova, il pollo è indispensabile. Quindi in quel periodo lì considera che giornalmente si può arrivare anche a mangiare, non dico quasi un chilo di pollo al giorno, ma 700-800 grammi tranquillamente di pollo al giorno in quelle fasi lì. Invece nelle fasi più lontani, quindi nelle fasi di off-season o di massa, io sono un fautore delle proteine, diciamo di ridurre il più possibile le proteine animali, di conseguenza ne mangio praticamente niente. Ecco, in un anno se io mangiassi i miei 800 grammi di pollo al giorno, in un anno sarebbero 270 kg di pollo al giorno, mi hanno fatto il calcolo, è impressionante come numero e ci sono degli atleti che lo fanno. Quindi io conosco e ho dei miei amici che mangiando il pollo tutto l'anno e mangiando 700-300 grammi tutti i giorni arrivano a mangiare 270 kg di pollo al giorno. Se uno fa anche la cifra per 10 euro, sono quanti? Sono 270 per 10 euro, sono 2.700 euro di pollo all'anno. Quindi insomma, una cifra sui 3.000 euro di pollo all'anno, facciamo i conti. Quanto tempo aspetti prima di mangiare queste Gigi, prima di mangiare pranzo e cena, dopo aver mangiato il post-workout? Ehi, almeno un paio d'ore. Almeno un paio d'ore, anche perché il post-workout, anche qui, una volta si diceva che il post-workout bisognava farlo immediatamente dopo l'allenamento. Quindi appena terminato, arrivare nello spogliatoio, pussa di calzini, gente sudata, e tu ti mettevi lì con il tuo coccetto e ti mangiavi il tuo post-workout di qualsiasi tipologia, in mezzo agli uomini nudi, schifosi, spuzzolenti e non, che ti circolavano attorno. Poi fortunatamente la gente si è un po' rinsavita e ha capito che, no, sto scherzando, però, che non c'era questa urgenza di doversi alimentare immediatamente dopo, e che c'era questa finestra che durava una, due, tre, c'è chi dice, io le ho sentite un po' di tutte. Comunque sia, io il post-workout lo faccio circa tre quarti d'ora dopo l'allenamento, più o meno, tre quarti d'ora, un'ora dopo l'allenamento, e poi dopo, ovviamente, mangio almeno un paio d'ore dopo, anche perché sono sazio, quindi non riuscirei a mangiare un pasto completo prima di un paio d'ore. Quindi il mio consiglio è questo, quindi destreggiati e distribuisci tutti gli altri pasti in base al post-workout, quindi quello diventa il tuo milestone, quindi la tua pietra migliare, cioè un'ora dopo l'allenamento ti mangi il tuo post-workout e poi, in base a quando ti alleni, vai a mettere gli altri pasti. Cosa ne pensi di Arnold Schwarzenegger? E cosa ne penso? È stato l'atleta, ed è ancora, a mio avviso, l'atleta, che ha reso questo sport, diciamo, presente a tutti, nel senso l'ha reso pubblico, l'ha reso televisivo, anche perché comunque sia, è l'unico, dove se notate, in cui continuano ad uscire, anche su Netflix l'abbiamo visto, comunque sia, dei video su di lui. Quindi è l'unico che ancora, e che tutti, chiunque tu conosca, penso, nel mondo, anche se non segui il bodybuilding, parla di Arnold Schwarzenegger, penso che, oltre al fatto che parlino che sia un bravissimo attore, però molti lo conoscono prima come bodybuilder che come attore. Quindi, comunque sia, ha reso il bodybuilding, il bodybuilding di comune, di presenza comune, quindi che tutti lo possano conoscere. Quindi rimane il numero uno. Infatti poi, gli Arnold Sport Festival sono l'unica competizione che è presente in tutti i continenti. Quindi c'è in Australia, c'è in Sudafrica, c'è in UK, in Europa, c'è in Sud America, c'è in Nord America, quindi è l'unica sport festival presente ovunque. E' frequentato non soltanto da bodybuilder, ma da sport di tutti i generi, perché all'interno degli Arnold Sport Festival, chi non li ha mai visti, soltanto come preve inciso, può trovarci di tutte, le competizioni di karate, le competizioni di braccio di ferro, le competizioni di strongman, ci sono un po' tutte le varie tipologie, e in più c'è anche l'esposizione dei vari produttori di integratori della zona che si presentano con gli stand. Quindi è veramente un festival di fitness presente in tutti i vari continenti, è l'unico presente ovunque, perché il Mr. Olimpia comunque sia è uno e rimane uno. Lui invece è, anche se ovviamente non con il prestigio del Mr. Olimpia, perché l'Arnold è il secondo per importanza, quello americano, gli altri onestamente a livello professionistico non ci sono, però come competizioni sono sicuramente le più numerose e quelle di maggiore spessore. Andiamo avanti. Ci sono anche le fantastiche gare di schiaffi che stanno prendendo sempre più piede, che si danno delle leppe in faccia, che veramente si disintegrano, non so come facciano a reagire, a resistere, e anche tra donne ho visto che iniziano a prendere piede, agghiacciante questa cosa. Comunque sia, sì ci sono anche le gare di schiaffi all'anno al Sport Festival, giusto, bisognerebbe andare a vedere solo per quelle. Latte nel bodybuilding. Ecco, a me sono andato una porta a piedi. Chi parla di ritenzione idrica e tanto lo denigra. Allora, chi non lo vuol mangiare, chi non lo vuol bere, non lo beva, io se uno ha visto il mio full day of eating, chi non l'ha visto di voi, vabbè mi avete fatto delle domande, però chi non l'ha visto di voi lo va da vedere, io la mattina adesso bevo il latte. Normalissimo latte. Lo bevo scremato, perché lo preferisco rispetto a un latte, un parzialmente scremato intero, perché il latte intero sa troppo di mucca, e quindi preferisco un sapore un po' più delicato, però io lo bevo tutte le mattine, quindi che dia di ritenzione idrica, onestamente potrebbe anche essere, però io utilizzandoli in off-season, non me ne rendo tanto conto, perché non ho una condizione tale, per cui si possa vedere, e penso anche per voi, che sia difficile, che voi si rendiate conto, se la ritenzione idrica è data dal latte, anche perché ce ne renderemo conto noi, quando siamo magari a 4 settimane dalla gara, se abbiamo della ritenzione idrica, quando siamo già in condizione, ma una persona che fa questo sport, non per mestiere, o non in modo professionistico, ma per rimanere in forma, che si renda conto, così fortemente, di una ritenzione idrica, mi sembra, scusatemi, alquanto difficile, però se siete tanto bravi a capire, che il latte dà la ritenzione idrica, non bevete, l'ho visto che ci sono tantissime altre tipologie, di alimenti, con cui sostituirlo, e poi lo vedete anche nei video, che io faccio quotidianamente dai supermercati, ci sono delle alternative a tutto, più uno va nei supermercati, più uno li frequenta, più uno si rende conto, che veramente, uno non può dire, non riesco a stare a dieta, perché non è possibile, perché ci sono alternative a tutto, quindi se uno vuole stare a dieta, lo può fare, se uno non vuole bere il latte, non lo beve, quindi punto, penso non ci sia problema, io lo bevo, e a me piace anche. No, assolutamente per slegare no, perché, assolutamente, è possibile che dia ritenzione idrica, quindi assolutamente no, quindi evitiamolo, però nell'off season, se uno si vuole bere una tazza di latte la mattina, non vedo perché non farlo, ovviamente, quando uno si mi piace, allora, per chi garezza, e lo sappiamo bene, alla fine, quando uno va nel pregala, i cibi si riducono drasticamente, lì inizia la fase, che noi chiamiamo indicati, in cui mangi veramente quattro cose, lì ti limiti, lì non hai alternative, come vi sto facendo vedere nei video del coso, e io sto parlando di una persona normale, per quello che i video sono dedicati, alle persone diciamo, che non gareggiano, ma perché chi garezza, quando arriva in pregala, i cibi sono 5, 6, 8, si riducono a 3, 4 tipologie di verdure, si riducono a, pasto, riso, pasta forse neanche più, ma si va con tanto, soprattutto con il riso, con il couscous, pollo, e manzo, una volta ogni tanto, o pesce, non c'è altro, e avena la mattina, punto, albumi, finisce lì, la preparazione di un bodybuilder in pregala, è questa, non hai alternative, sono pochissimi cibi, e mangi quelli per, il tempo necessario per arrivare in condizione, possono essere, se sei fortunato, che vai in condizioni di fretta, 6 settimane, se sei una persona invece, che è un po' più sfortunata, che tende ad ingrassare di più, e quindi ad andare in condizioni, più difficilmente, devi stare 12 settimane, a mangiarsi del riso del pollo, punto, se no non fai questo spoil, i nostri invece, ti puoi concedere tutto il resto, perché ovviamente, non hai quelle esigenze, devi mettere sui muscoli, quindi penso che una tazza di latte, non crei problemi, allora, buon pomeriggio, che allenamento consiglieresti a un ragazzo, che ha cominciato da poco, assolutamente un full body, io consiglierei, tre allenamenti a settimana, per almeno un annetto, di full body, quindi, uno o due esercizi, per muscolo, che diciamo, distribuisci durante il tuo allenamento, quindi, durante il tuo allenamento, fai un po' tutto il corpo, in due sedute di allenamento, ti sei girato tutto il corpo, e lo rifai, per un annetto, quindi, non ti soffermi, sul muscolo cingolo, ma fai un pochettino di tutto, per imparare, prima di tutto, la tipologia dell'esercizio, in quanto, se hai un bravo, un bravo train, un bravo personal trainer, te li cambierà strada facendo, e quindi, imparerai sempre più esercizi, in più, il tuo fisico, si abituerà, all'attività anaerobica, che non è comunque, sia una cosa, così frequente, per un ragazzo, che magari, ha giocato a calcio, ha nuotato, ha corso, ha fatto atletica, ha fatto arti marziali, che sono tutte, attività aerobiche, quindi, ci vuole un po' di tempo, per l'adattamento, all'attività anaerobica, in più, devi imparare, gli esercizi, quando avrai una struttura, di un certo livello, chi, ti segue, capirà, che è il momento, di passare, da un allenamento, full body, a un allenamento, invece, un pochettino, più strutturato, e più dedicato, alla crescita muscolare, di un certo livello, gli amminoacidi essenziali, quanto è più giusto prenderli, durante o dopo il workout, allora, gli amminoacidi essenziali, a mio avviso, sono una grossissima invenzione, invenzione per modo di dire, però, l'utilizzo dell'amminoacidi essenziali, ti agevola tantissimo, allora, l'amminoacidi essenziali, io, lo prendo, pre-workout, o during workout, perché, post-workout, preferisco prendere, e prendo delle proteine, whey, o idroalizzate, quindi, durante l'allenamento, ci può stare, ci possono stare, gli amminoacidi in polvere, quindi mischiati con l'acqua, ed eventualmente, anche dei carboidrati, nel caso in cui uno, ne necessiti, oppure, possono essere assunti, nel pre-workout, a mio avviso, il during workout, forse anche una fase intelligente, ma anche il pre-workout pure, quindi, io, li consiglio, li consiglio, in queste due fasi, soprattutto, poi, c'è chi li assuma, anche in post-workout, ma io reputo più valido, utilizzare una bella proteina in polvere, pro o contro il TIC, anche qui, io il TIC, lo utilizzo quotidianamente, ce l'ho sempre con me, ho il portafoglio, e il TIC, dentro la borsa, che non mancano mai, quindi, con me, io sono un po' di parte, il TIC, a me piacciono le cose dolci, sono sempre stato amante del dolce, e di conseguenza, il TIC lo metto ovunque, anche troppo, perché, ovviamente, le dosi consigliate, mi sembra, stia in tre o quattro gocce, le butto a caso, quindi, io sicuramente, non faccio testo con il TIC, considerate, comunque, sia il TIC, lo utilizziamo, poi, ci sarà qualche mio collega, che mi contraddirà, giustamente, anche, qualche giorno, prima della gara, anche, proprio, durante la gara, quindi, non abbiamo visto, che 4 o 5 gocce di TIC, o, anche solo 10 gocce di TIC, rovinino, una preparazione, quindi, io lo reputo, come dolcificante, un ottimo strumento, per dolcificare, poi, dopo, anche qui, si apriranno, mille contestazioni, io dico, quello che prendo, io lo utilizzo sempre, l'ho sempre utilizzato, anche, il giorno della gara, la mattina, per dolcificare il caffè, no, forse, la mattina della gara, scaramanticamente, no, ma solo scaramanticamente, il giorno prima, nel latte, tre gocce di TIC, nel latte, scusatemi, nel caffè, tre gocce di TIC, gli avevo messo, quindi, non vedo tanto, ovviamente, l'eccesso, mi sembra di aver letto, che porta, a fetti lassativi, a me non è mai capitato, quindi, non posso dirvi, se sia vero oppure no, pur utilizzandone parecchie, crema di riso, si può mangiare, anche quella aromatizzata, sotto gara, a mio avviso, sì, anche se, la crema di riso, nel pre gara, non mi ricordo, che venga molto utilizzata, dai preparatori, secondo me, non lo utilizzano molto, però, perlomeno, con i preparatori, con cui sono stato io, non l'ho mai utilizzata, nel pre gara, la crema di riso, però, aromatizzata o no, non vedo, tanto, è aromatizzata con delle cose, che non è che cambiano, l'effetto calorico, o quindi, possono peggiorare la condizione, quindi, io non vedo problematiche, queste sono domande, giuste da fare, perché, giustamente, uno, se deve stare a dieta, lo faccia nel migliore dei modi, però, come, mangio la mattina, ho sempre mangiato, l'avena aromatizzata, fino al giorno prima della gara, non vedo, perché la crema di risa aromatizzata, non si possa mangiare, quindi, posso dirti, puoi mangiarla, dopo quanto tempo consigli, di mangiare fonti di grassi, dopo l'allenamento, mangiando solo carb pro, anche qui, io non faccio testo, perché ho visto, che molti hanno criticato, il mio full day of eating, e il fatto, che io post allenamento, mangiassi, 50, anzi, 70 grammi, di cioccolato fondente, di 100 che rallentava, mi sembra, l'assimilazione, delle altri componenti, tipo, dei carboidrati, delle proteine, purtroppo, io, le mangio subito, dopo l'allenamento, però, ho capito, che, nel post allenamento, molti non lo danno, perché dovrebbe avere, questo effetto, quindi, evitali, e mangiali, e mangiali, al posto successivo, quindi, potrei dire, due ore dopo, poi, ripeto, io le mangio, veramente, quei tre quarti d'ora, dopo l'allenamento, quindi, non faccio testo, però, se tu non le vuoi mangiare, perché reputi, che possono, diciamo, con delle, magari, delle motivazioni, più valide, rispetto a quelle che ho io, non essere utilizzati, allora, utilizzali, mangiali, due ore dopo, meglio a squat, o squat classico, eh, non è uno meglio dell'altro, lo squat classico, bisogna impararlo, quindi, ovviamente, a un ragazzo che entra in palestra, lo squat, bisogna insegnarlo, reputo, che, e anche qui, ci saranno i fautori, degli esercizi fondamentali, eh, che però, non devono fare bodybuilding, quindi, magari, devono fare, delle altre tipologie di gare, che non sono il bodybuilding, eh, lo squat classico, deve essere fatto, io, ultimamente, non lo faccio, eh, o quantomeno, lo faccio, se lo devo fare, guidato, quindi, al multi power, quindi, non libero, eh, e, la squat, è una macchina, a mio avviso, molto valida, da considerarsi, tra le fondamentali, per far crescere le gambe, e quindi, lo faccio, la squat, tutti gli allenamenti, penso, quindi, lo posiziono, in varie fasi, degli allenamenti, in base al fatto, che possa essere pesante, oppure no, quindi, lo metto come secondo esercizio, pesante, oppure, lo metto come tra gli ultimi esercizi, quindi più leggero, con più alto numero di ripetizioni, per dare pompaggio al muscolo, quindi, non c'è il meglio, devi partire con lo squat, devi far fare lo squat classico, e se tu riesci a farlo, ben venga, io, che non sono più un bambino, ho paura, anche a livello, diciamo, di schiena, mi diranno, non sai fare a farlo, probabilmente sì, però io, le gambe mi sono cresciute, lo stesso, senza fare lo squat classico, e facendo l'hack squat, però, ripeto, sono due esercizi, importanti entrambi, e lo squat classico, e lo squat, quindi, non si può dire niente, se non che è un esercizio fondamentale, altra domanda, Aldo, fai coaching online, Allora, Aldo, non pensava mai, di poter fare coaching online, o quantomeno, di poter allenare qualcuno, perché dicevo, io lo faccio per me stesso, mi alleno io, e basta, però, ho cambiato, un po' idea, anche perché, da quando sono sui social, mi sono reso conto, che, la motivazione per cui sono entrato sui social, molti di voi la conoscono già, ma altri no, è quella di cercare di, dare, di poter mettere, poter insegnare, per quello che posso, che comunque, la mia esperienza è trentennale, quindi anche soltanto l'esperienza, penso valga, insegnare ai più o meno giovani, e rendere, far capire, il bello del bodybuilding, e quindi è nato, per i giovani e i meno giovani, per potersi avvicinare, a questo sport, con l'entrata, appunto, mia, dei social, mi è stato richiesto, sempre più frequentemente, da moltissime persone, di essere seguito, quindi, ho iniziato a seguire, qualche d'uno, qui della mia zona, per vedere, se mi potesse piacere, perché ovviamente, a parole è una cosa, ha fatto un'altra, e quindi, adesso seguo, sette, otto persone, ragazzi, e non anche, qui della zona, sia che gareggiano, sia che non gareggiano, sia diciamo, con, diciamo, caratteristiche fisiche, di un tipo, che di un altro, per cercare ovviamente, di avere uno spettro più ampio, di quello che sono, le varie possibilità, che mi sarebbero potute capitare, e mi sono reso conto, che mi piace, è molto impegnativo, e mi piace, ovviamente gareggiando, sono sempre dell'idea, che bisogna cercare, di separare le cose, nel miglior modo possibile, perché ovviamente, se no, uno rischia, di non fare bene, nemmeno l'altro, però, vedendo anche il fatto, che mi sono affiancato, e che ho un bel team di persone, che mi sta aiutando, vedendo che, le richieste sono sempre cresciute, vedendo che, con questo, potrei aiutare, sempre più persone, ad avvicinarsi, a questo meraviglioso sport, che è il bodybuilding, abbiamo deciso da, ha fatto tutto questo preambolo, noiosissimo, per dirvi che, da settembre, quindi fra un mesetto, saremo operativi, con il mio coaching online, quindi usciremo, con la nostra piattaforma, con cui inizieremo, a formare le persone, avremo un numero limitato, perché partiremo, con un numero, molto ristretto, di candidati, perché, dobbiamo rodarci, e poi, ovviamente, strada facendo, se le cose andranno, come ci aspettiamo, aumenteremo, il numero delle persone, e quindi, però, sempre, quello che non interessa, è la qualità del servizio, io preferisco seguire, 5 persone bene, che 50 male, perché ovviamente, non mi interessa, che il mio nome, venga sputtanato, diciamolo chiaramente, quindi, noi saremo operativi, da settembre, adesso fra un po', guardo Lorenzo, che è dietro la videocamera, e mi conferma, saremo operativi, a settembre, con il nostro coaching online, lo pubblicizzeremo, avremo, delle giornate aperte, dove uno, si può iscrivere, non dovrebbero essere tante, perché il numero di persone, a cui appunto, con cui, inizieremo la collaborazione, di coaching, non saranno tante, e in quelli giornate lì, uno potrà decidere, se affidarsi a me, e quindi, diciamo, partire con una collaborazione, con me, e con un miglioramento fisico, affidandosi, alle mie competenze, comunque, sarete tutti informati, sui vari social, di questo, a brevissimo, un altro argomento, molto interessante, che si collega, in parte, al coaching online, è il fatto che, abbiamo individuato, nel 17 settembre, quindi, a breve, fra un mesetto, dalla registrazione, di questo video, perché infatti, oggi mi sembra, che siamo al 17 di agosto, al 18, un mio primo seminario, alla palestra Beverly di Riccione, il 17 di settembre, è una domenica, partiremo, nel primo pomeriggio, e faremo, una prima parte teorica, e una seconda parte pratica, di allenamento, assieme a me, anche qui, avremmo, un numero, ristretto, ovviamente, di persone, che sono quelle, che possono essere contenute, dalla palestra, non tanto per gli allenamenti, ma quanto, per la parte teorica, perché comunque sia, dovremmo metterli a sedere, e quindi, secondo me, questa è una cosa, molto interessante, questa l'abbiamo collegata, al fatto, che molti mi hanno chiesto, di allenarsi con me, ma visto che eravate, veramente tantissimi, abbiamo detto, ma perché, non facciamo, un seminario, in cui, raduniamo, più persone assieme, in modo tale, che tutti, hanno la possibilità, di allenarsi con me, e tutti, hanno la possibilità, di conoscermi dal vivo, e di capire, se veramente, io sono la persona, a cui affidarsi, anche in un eventuale, coaching online, e quindi, abbiamo individuato, il 17 di settembre, comunque, a brevissimo, seguitemi, su tutte le varie piattaforme, perché usciranno, tutte le indicazioni, della data, che avete però, vi ho già detto, e anche delle procedure, per potersi iscrivere, a questo primo evento, sperando, che siate in parecchi, in base, ripeto, al numero di posti disponibile, perché questo, mi farebbe molto piacere, allora, andiamo avanti, mi diranno, affannato, sì, sono affannato, sono 115 kg, faccio fatica, a fare tre gradini di scale, oggi sono tornato, dalle ferie, oggi con la mia famiglia, sono stato a vedere un castello, c'erano tipo, otto rampe di scale, mia moglie ha detto, non provarci neanche, a fare le otto rampe di scale, io ci ho provato, sono arrivato in cima all'attore, che mi sembrava di morire, quindi, purtroppo, sì, mi affatica abbastanza in fretta, però, però, visto che, ho il mio preparatore, e un altro, il medico che mi segue, perché sono seguito anche da un medico, a differenza di molti, che pensano, che noi siamo buttati, diciamo, in questo sport, all'area così, come se nulla fosse, ma sono seguito da un medico, costantemente e giornalmente, ho fatto tante saune, e l'importanza della sauna è fondamentale, nel senso che la sauna, è una validissima alternativa all'aerobica, sì, per noi che facciamo attività in aerobica, la sauna è da equipararsi, alla camminata in salita, che facciamo noi abitualmente, noi bodybuild, per tenere l'attività cardiovascolare, sempre attiva, quindi ho fatto tante saune, quindi da quel punto di vista lì, mi sono, diciamo, teoricamente, ho fatto erobica, e quindi, ho potuto fare, queste otto rampe di scale, senza morire a metà, ma riuscendo ad arrivare in cima, allora, torniamo alle domande, ciao Aldo, ci alleneremo mai insieme allo scoschino, ti ho risposto adesso, non sarà allo scoschino, ti toccherà arrivare fino a Riccione, ma dai, penso che tra Forlì e Riccione, ci sono mezz'ora di differenza, quindi se hai voglia, lo puoi fare tranquillamente, quante volte alleni il petto, grande Aldo, grazie Sandro, del grande Aldo, allora, io il petto, in questo momento lo alleno solo una volta, però, però, visto che ho un mio punto carente, soprattutto la parte alta del petto, l'ho allenato, ultimamente due volte, a settimana, quindi, i muscoli carenti, tendiamo ad allenarli più frequentemente degli altri, per vedere di farli migliorare, quindi, il petto è un mio punto carente, soprattutto questa parte superiore, e di conseguenza, visto che ho le spalle anche molto preponderanti, molto larghe, e molto grosse, il petto tende a svilirsi, e di conseguenza devo allenarlo di più, oltre al fatto che comunque è superiore, ma la parte superiore non è sviluppata come quella inferiore, quindi io lo alleno una barra due volte, due volte nei momenti, diciamo, intermedi delle mie preparazioni. Aldo ci fa vedere tutte le tue Jordan, farò magari un video dedicato alle Jordan, però l'ho fatto un mio collega, che ne ha molto più conosciute di me, che ne ha una stanza piena, io non posso neanche competere con lui senza fare il nome del conione, quindi, cioè, ne avrà 300 paia, io ne avrò 30-40 paia, però che io porto, lui invece le tiene tutte come cimeli, invece no, io le porto. Aldo, ma da quanti anni ti alleni? Sei un grande, ti stimo molto, grazie, io mi alleno da 30 anni, non continuativamente, ma comunque sia, sono circa 30 anni, nel stato che avevo 18 anni, un po' meno di 30 anni, ne ho 47, quindi sono 29 anni, e ho avuto uno stacco di 6-7 anni, valgiamo una decina d'anni, no, 7-8 anni in questo periodo, di, diciamo, di interruzione in varie fasi, quindi fai conto, più di 20 anni. Carbo negli spuntini, può essere uguale tipologia, tipo paneasimo e paneasimo, oppure, bisogna cambiare? Non ho capito la domanda, io penso che carbo, se non carbo, quindi io non posso mangiare la tipologia di carbo che preferisce, negli spuntini, poi il paneasimo sicuramente è un'ottima fonte di carboidrati, perché comunque non ha sale, però ovviamente bisogna vedere se uno deve stare restretto di sale, perché se no non deve stare restretto di sale, può fare a meno di mangiare, può mangiare altro, diciamo. Carbo negli spuntini, può essere uguale tipologia, tipo paneasimo e paneasimo, oppure bisogna cambiare? Ah no, no, si può cambiare, chi è fautore del paneasimo, perché ha visto i miei video, e adesso mangia solo paneasimo, no, ci sono anche altre fonti di carboidrati, non soffermiamoci solo sul paneasimo, anche perché io un po' che non lo mangio. Cosa si può fare per dormire meglio e di più senza ricorrere a farmaci? Allora, questo dovrei chiedere a mia moglie che è entrata adesso, che usa la melatonina, è vero amore? No, per dormire meglio. Sì, melatonina. Mia moglie utilizza la melatonina per dormire meglio e ti dà giovamento, no? A volte sì, a volte non conta quasi niente. Ah, ok, quindi ha sfatato il mito della melatonina. Dipende. No, ci sono, io non utilizzo niente, purtroppo perché sono molto interrotto, e non utilizzo a farmaci, oltre alla melatonina, ci sono magari qualche mix di, diciamo, di piante, che magari uno va in erboristeria, può trovare qualcosa, però io onestamente non lo so. Sì, in erboristeria senta se c'è qualcosa che possa aiutare, se no si spara dei gran sonniferi e dorme. No, sto scherzando. Ti disturbo se ti vengo a trovare in palestra e ti chiedo una foto? Ma assolutamente, io sono solo contento se tu mi vieni a trovare in palestra per una foto. Io ci sono sempre, bisogna vedere in capalestra solo, mi scrivi e io ti dico dove mi trovo, se vuoi venire, molto volentieri. Ciao Aldo, come procede la tua vita da social volger? Social volger è tipo divulgatore di social, no? Immagino questo. A mio avviso molto bene, e poi adesso che ci siamo rodati, assieme diciamo al team di ragazzi, che diciamo, con cui collaboriamo, e abbiamo ottenuto ottimi risultati, perché avete visto che abbiamo raggiunto, tre o quattro giorni fa i centomila follower su TikTok, e stiamo andando molto bene anche sulle altre piattaforme, come sono YouTube e Instagram e le altre. Quindi, cosa dire, ci siamo caricati, ci stiamo conoscendo sempre di più, miglioreremo con i contenuti ogni volta di più, e di conseguenza speriamo di fare sempre meglio, e di ampliare sempre di più la pletora di persone che ci seguono. Perché secondo noi stiamo facendo un buon lavoro con dei contenuti che altri onestamente non divulgano. E quindi speriamo di fare sempre meglio. Ovviamente faremo i nostri errori, è giusto ovviamente che voi ci critichiate quando ci sbagliamo, perché dagli errori si migliora, e quindi se sono delle cose che non funzionano, dite se le miglioreremo, perché ovviamente lo stiamo facendo per voi, non per noi. Anche per noi, perché dal mio punto di vista è importante che diciamo capiate che cos'è il bodybuilding, però dall'altro punto di vista, e più in generale, perché i social comunque non rivestono, non sono solo le volte che fa bodybuilding, abbiamo visto che comunque con quelli che sono la spesa stiamo diciamo aiutando anche delle persone che assolutamente non conoscono questo mondo, e di cui questo mondo non gliene frega niente. Solo persone che vogliono stare in forma e che cercano delle alternative alimentari ai classici prodotti che mangiano abitualmente. quindi è trasversale a chiunque abbia voglia di stare in forma. Quindi anche qui accettiamo consigli, quindi scriveteci lì e noi cercheremo di tenerli in considerazione il più possibile. Come è nata la tua passione verso il bodybuilding? È nata, allora, ti chiederei la cortesia, prima di rispondere a questa domanda, di andare a vedere uno dei nostri primi video, mi sembra il primo o il secondo, sul mio canale YouTube, in cui appunto racconto un po' la mia storia e da dove è nata la mia passione. Quindi lì la spiego in modo molto più esauriente. Quindi vai a vedere quel video, se poi lì non sono stato chiaro, me lo riscrivi e te lo faccio un video dedicato. Mi potresti dire come rimanere focus nella dieta? Tanta forza di volontà, perché come in tutte le cose, non è gratis e di conseguenza bisogna fare fatica per ottenere i risultati. Quindi per essere in forma bisogna fare fatica. Bisogna faticare, bisogna metterci tanto impegno, avrai tanti momenti in cui farai fatica ed è lì che devi tirare fuori la grinta, il 110%, perché quando tutte le cose vanno bene, sei tranquillo, ti vedi bene, hai tutte le situazioni a casa tranquille, hai gli amici apposta, è l'amorosa che ti scelta la coda, quando invece inizia a vedere, è il collega con cui hai sempre da dire, è l'amorosa che ti ha mollato, è i genitori che ti rompono le palle, è lì che devi tirare fuori le palline grosse e devi, se sei un uomo, se sei una donna, qualcos'altro, e dovete tirar fuori gli attributi e tenere duro. e non dire, ho avuto i miei problemi, quindi mi sono buttato nel cibo, no, è lì che bisogna tirare fuori le palle, perché dopo ti renderai conto che al termine del periodo che finisce di difficoltà, ti sentirai più forte di prima, perché hai detto, ho visto che ce l'ho fatta, e se no di poi ti dirai, guarda come sono stato bravo, e la volta successiva ti risulterà ancora più facile mantenere la dieta e la forma, ma come per la dieta in tutte le cose della vita, quindi, devi sempre tirare fuori, nei momenti di difficoltà, devi tirare fuori sempre il meglio di te, di te, so che non è facile, potrai avere dei problemi di depressione in cui ti vieni ad aprire il frigo e buttartici, lo apri, lo richiudi e vai a dormire, la prima volta non ce la fai, la seconda volta non ce la fai, la terza ce la fai mangiando alla metà, la quarta non lo apri, lo apri e lo chiudi, quindi se ti capita, e quindi tieni duro e vedrai che i risultati che otterrai saranno molto superiori al non aver fatto quello che ti invece in quel momento ti veniva di fare. Questo è uno studio di vita che ti insegna veramente la disciplina. La disciplina, ma che ti serve poi in tutti gli angoli della tua vita, la disciplina, perché ripeto, chi non ha dei momenti di difficoltà, io sono in un periodo in cui mangio talmente tanto che mi verrebbe che ho dei momenti, il mangiare tanto ti dà, sembra tanto facile, ma è molto più complicato che stare a dieta. Passo dei momenti in cui passi da una felicità estrema alla depressione, perché comunque sia questi sbassi anche glicemici ti danno dei momenti di felicità e dei momenti di sconforto. Aver voglia di allenarti e non aver voglia di allenarti, però ti alleni comunque perché sai quello che devi fare e quando esci dall'allenamento sei comunque contento. quindi è difficile, è difficile a tutti i livelli, più vai su di livello più è difficile perché devi dimostrare sempre di più, devi ottenere sempre di più e devi, e di conseguenza, dimostrare sempre di più perché hai sempre più occhi puntati. Poi adesso io, non per dire, ma avendo anche tante persone come voi che mi seguono, io ho ancora più pressione di una volta, una volta era un bodybuilder solitario che si allenava e che portava la sua condizione sul palco che era conosciuto soltanto nel settore dagli atleti che garezzavano, adesso che ho la fortuna di avere anche voi, questo mi rende tanto felice ma dall'altro punto di vista mi rende ancora, devo dimostrare ancora di più perché ho tutti i vostri occhi puntati, credete su di me e quindi pensate che io posso fare il meglio e di conseguenza per me è una pressione ulteriore oltre alla classica pressione che avevo, ma questa la devo sopportare e dovete farlo voi anche nel vostro piccolo e stare a dieta. Cosa ne pensi degli energy drink? Per uno che andiamo in palestra secondo me è un contenu' un cazzo, servono proprio una minchia. Per uno che fa attività di endurance probabilmente sì, aiutano a tenere magari uno che fa un'attività prolungata, un energy drink ti dà quel vigore per continuare con l'attività ma per noi che siamo in palestra un'ora che è energy drink? Prendi un bel pre-workout ti alleni e finisci lì, ma un energy drink ti bevi dell'acqua durante l'allenamento, ti bevi di amminoacidi essenziali durante l'allenamento, non abbiamo bisogno di energy drink noi. Per uno che cuore due o dieci ore cazzo, l'energy drink ogni ora ci sta. C'entrano un cazzo. Piuttosto, ripeto, mangiate due ore prima e andatevi a allenare se non volete prendere il pre-workout. Io il pre-workout escluso il fatto che adesso ho sponsorito la Vitastrong giustamente che hanno un buon pre-workout ma veramente un buon pre-workout li ho scelti anche per quello quindi se volete comprare il pre-workout della Vitastrong è pubblicità però la faccio visto che li sponsorizzo codice al donna 69 sito Vitastrong provate il pre-workout della Vitastrong che è veramente di altissimo livello io il pre-workout non li uso mai usati. Ho provato quello sento che mi dà energia però io non li uso però lo pubblicizzo perché lo reputo un prodotto migliore di quelli che c'è in commercio. Quindi per chi anziché l'energy drink utilizzi un pre-workout ci si vada ad allenare. Allora il migliore tipo di tonno in scatola no il tonno in scatola è tonno in scatola oggettivamente il tonno nel vetro è molto migliore rispetto agli altri tonni anche quella naturale è sicuramente da preferire però per il resto il tonno un tonno io a mio avviso non è l'altro ovviamente sono le marche migliori però quello che si trova al supermercato è più bene quello tranne che se non ci vado sull'alta qualità allora in questo caso il tonno è migliore però io non sono così di bocca fine da capirla a differenza sicuramente in vetro costa di più ma oggettivamente anche più buona a livello di sapore gareggerai a breve allora l'idea era quella di gareggiare ad ottobre però e questo ne abbiamo parlato penso ne ho parlato anche in un altro video visto che sono in una fase di massa e sto crescendo bene con tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato precedentemente però sto crescendo bene abbiamo deciso di continuare con la massa fino a fine anno e di iniziare a restringere a gennaio per poi iniziare a gareggiare a marzo e fare 3-4 gare americane a marzo se tutto va bene quindi fare 3-4 competizioni farsi vedere dai giudici americani e chiedere l'invito all'olimpia per l'anno prossimo questi sono gli obiettivi tranne che non mi faccia male quindi tutti i miei piani vadano a puttane quindi non lo voglio pubblicizzare tanto però questo attualmente è il nostro piano quindi andare in cut da gennaio e portare la condizione a marzo e iniziare a girarci negli Stati Uniti per farci conoscere andare bene nelle gare americane e poi chiedere l'invito questo è il nostro piano sperando che rimanga tale come gestire le calorie durante le settimane nei giorni di allenamento e riposo anche qui molti modificano le calorie in base al fatto che uno si alleni o non si alleni io non lo faccio i miei preparatori non l'hanno mai fatto noi abbiamo magari facevamo dei giorni 100-200-300 grammi di carboidrati però che erano svincolati dal fatto che tutti allenassero non l'allenassero anche perché uno ci allenassero 6 giorni su 7 quindi per noi l'allenamento praticamente è tutta la settimana quindi non c'è un giorno di stacco però anche se uno si allena 4 volte a settimana la dieta comunque sia è quella quindi rimane quella se hai una variabilità continui e fai 100-200-300 indipendentemente dal fatto che tu teni oppure se hai una dieta costante hai una dieta costante e non lavari allora mi viene fatta questa domanda il filone del volume continua senza tregua mi chiedo e ti chiedo IH che ancora oggi porta avanti il concetto dell'aviduity lo ritieni poco credibile perché sentirti dire più alleni meglio è fa sorgere qualche dubbio non credi? no adesso sono l'esempio lampante che per esempio il mio coach attualmente mi fa allenare solo 5 volte a settimana io so per allenarmi tutti i giorni però lui mi ha detto adesso ti alleni al massimo 5 volte a settimana quindi in questa fase di massimo in cui ho degli allenamenti che poi sono gli stessi allenamenti che faccio in fase tutti questi cambiamenti io non sono un fattore dei cambiamenti quando le cose vanno bene teniamole quelle teniamo quelle cambiamole solo quando le cose non funzionano se un allenamento funziona e ti funziona in definizione ti funziona in massa perché cambiarlo? non vedo il motivo quindi però il numero di allenamenti me l'ha fatto calare perché ha detto che in questa fase in cui mi devo concentrare anche tanto sul mangiare quindi devo crescere il mio muscolo devo avere un po' più di riposo quindi spingo probabilmente di più durante gli allenamenti a livello di pesi e di conseguenza come appunto mi dici tu mi alleno un po' meno addirittura come appunto nella domanda delle volte i muscoli una volta si allenavano una volta ogni 10 o 15 giorni quindi le gambe le facevi una volta e poi saltavi 10 giorni prima di fare la volta successiva perché le avevi talmente disintegrate che non avevi però se uno e parimenti volesse seguire la filosofia di allenare le gambe come ho fatto io per 5 anni consecutivi 2 volte a settimana in quadricipoli 2 volte a settimana in femorali l'ho fatto e mi sono cresciute quindi cosa ti posso dire adesso sto provando una teoria di allenamento un po' più vecchio quindi con un riposo maggiore e sto vedendo i miei risultati quindi io sono convinto che per arrivare al medesimo risultato ci posso arrivare da tante strade differenti e quindi uno deve trovare quella che per lui va meglio in quel determinato periodo della sua vita perché magari può funzionare una cosa adesso e fra un anno non funzionare più quindi assolutamente no a me le video ultime sono sempre piaciute quindi tanto peso allenamenti concentrati e poi stai con parecchio riposo può funzionare perché non farlo provali magari per un periodo di tempo vanno bene poi ti rendi conto che non funziona e poi li cambi nessuno ti obbliga a fare una cosa se non funziona la differenza tra uomo e donna io non sono allora l'alimentazione secondo me di base è sempre quella la domanda mi viene fatta mi piacerebbe di parlarci un pochino della differenza di allenamento e alimentazione tra uomo e donna ovviamente allenamento sì è differente tra uomo e donna perché le donne hanno delle esigenze differenti rispetto a quelle che è un uomo e le donne non vogliono portarsi alle estremi di azione magari di un ragazzo che vuole crescere muscolarmente quindi le donne in generale vogliono ridurre i fianchi tenere le grandi fine e diciamo non troppo grosse ma belle e dure definite con un bel addome questa è la donna in generale i ragazzi invece vuole crescere un po' tutto escluso quelli che non fanno le gambe che però il problema è loro non è lì e che dopo vanno a competere facendo il male fisico senza fare dell'ironia no sto scherzando non fino in fondo però sto scherzando l'alimentazione non la vedo tanto differente uno per dimagrire deve andare in ipocalorica e uno per crescere deve andare in ipercalori se è un uomo che è una donna probabilmente le donne magari hanno degli alimenti che prediligono rispetto ad altri e magari uno cambia la tipologia di allenamenti di alimenti però a livello diciamo di contenuto bisogna comunque andare in deficit calorico per dimagrire quindi non vedo una gran differenza tra l'uomo e la donna da questo punto di vista probabilmente i quantitativi di calorie ci saranno differenti molto più bassi nella donna rispetto ad un uomo non è poi neanche detto questo perché c'è le donne che mangiano come gli uomini bisogna sempre andare a vedere chi ti trovi di fronte e cercare di fare qualcosa dedicato a chi ti trovi di fronte e le problematiche con la persona l'ultima domanda se hai davvero un esempio complimenti grazie quante volte e come consiglieresti gli allenati per incrementare massa e ipertrofia per ottenere i massimi risultati avendo tutto il tempo che si vuole ipoteticamente ha come altre età natura al 100% ho risposto nella domanda di prima non c'è una regola bisogna che tu parta con una tipologia di alimentazione di allenamento e vedi se funziona sicuramente funzionerà perché se è un ragazzo dei primi anni tutto funziona oggettivamente quindi è per quello che poi ci sono molti personal trainer che all'inizio fanno tante furore poi dopo quando iniziano invece a diventare le cose più difficili non riescono a portare i risultati perché? perché all'inizio sia con uno che vuole dimagrire tanto sia con uno che vuole crescere che alle prime armi si ottengono dei risultati facendo praticamente con qualsiasi strada e dopo quando iniziano adesso un po' di assestamenti sia nel calo di peso sia diciamo nell'aumento muscolare che è dal di lì che deve saltare fuori il preparatore buono e quello no quindi è dal di lì dopo bisogna andare a individuare in base anche a che tipo di lavoro fai che tipo di metabolismo hai quanto dormi quando ti alleni anche lì in base a questo calibrare l'alimentazione e la dieta spero di avervi risposto altro io qui di domande vostre non ne ho ve ne avete fatte tantissime vi ringrazio molte le ho saltate perché a mio avviso non erano pertinenti con il Q&A di oggi se me ne volete fare delle altre ve lo ripeto ancora come vi ho ripetuto all'inizio del video mettetele qui alla latera di questo bellissimo video spero che i contenuti vi siano piaciuti spero di non avervi tediato oltre misura se vi ho tediato chiudete il vostro YouTube e andate a vedere degli altri che parlano di questi bellissimi contenuti come parlo io non ne trovate se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi accendete la campanella per rimanere sempre informati di quando usciranno i nostri video perché se avete visto in questa fase estiva non siamo usciti sempre lo stesso giorno anche in base alle views che c'erano in queste fasi diciamo di feste e quindi per non far uscire il video in giornate in cui la gente non li avrebbe visti vi ringrazio tantissimo se avete delle critiche da fare fatene e se avete anche delle cose ovviamente a cui io possa rispondere fate anche questo vi ringrazio tutti buona serata e a presto